Bene, questo è senza dubbio un argomento da seguire perché se riusciamo a cambiare il nostro modo di vivere facendo degli accorgimenti, facciamo, dice, meno dighe e piantiamo più alberi, liberiamo più terreno dall'asfalto, facciamo in modo che il terreno sia permeabile, non impermeabile e che quindi l'acqua poi arrivi nelle falde, eccetera. Bene, ne parleremo. Un'altra cosa importante riguarda naturalmente anche i rifiuti. Voi sapete che abbiamo delle difficoltà, anzi enormi difficoltà a liberarci dei rifiuti in città come Palermo. Allora, Feder Consumatore ha organizzato per giorno 14 maggio alle 9.30 alla CISL un convegno proprio sui rifiuti. Ecco, rifiuti, trasparenza e partecipazione per una tariffa giusta. Voi sapete che i rifiuti da noi non sono a contributo, sono a tariffa. Cioè i comuni devono far pagare ai cittadini quello che spendono per smaltire i rifiuti o negli inceneritori o li portano da qualunque parte. Però se spendono un milione d'anno dai cittadini devo prendere un milione d'anno. Quindi conviene spendere meno per poter prendere meno soldi perché dai cittadini, quindi i cittadini risparmiano. Si parla di tutto questo, vedete i vari cicli, quindi alle 9.30, gestione dei rifiuti, tariffe, inceneritori. Sarà molto interessante, ne parleremo in questi giorni. Dicevo per quanto riguarda la politica, siamo in attesa di avere novità di vario genere. Però la prima novità è che Cateno De Luca, l'onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, è stato dimesso. Lo hanno detto, vati a casa. Lui avrebbe dovuto andarsene prima, però è chiaro, deve sottostare agli ordini dei medici. E alla fine, oggi è stato dimesso, ha detto, sono pronto a ricominciare. Non lo so se i medici gli hanno detto, puoi fare quello che vuoi. E' chiaro che lui lancia questi segnali importanti ai suoi simpatizzanti, ai suoi lettori, ma io credo che sia meglio, con calma, fare in modo che le cose viaggino bene, senza poi avere pericolo di altre ricadute. Domani ci sarà un appuntamento importante al Teatro Tenda di Ragusa. Ci saranno davvero migliaia di giovani, molte scuole, per parlare di un progetto che guarda all'eliminazione, se è possibile farlo, del bullismo nelle scuole. E' un progetto di grande respiro, parte dalla regione siciliana, e si chiama 1, nessuno, 100 giga, parafrasando un po' il 100 mila di Pirandello. 100 giga e questo è perché i ragazzi oggi ragionano in giga con i loro telefonini. Abbiamo sentito il dirigente scolastico Beatrice Lauretta che ci parla di questo evento di domani.